La sexy ladra colpisce ancora, lo ha fatto poco fa in una via, via Cimaroso, una traversa di via Dante Alighieri, siamo nella zona mare di Sassonia Affano. E per raccontarci un po' quello che è successo, la dinamica, ma soprattutto per mettere in guardia i nostri telespettatori, abbiamo in collegamento telefonico il figlio della vittima di questa truffa, il quale ringrazio naturalmente e chiedo subito come si sono svolti i fatti. Allora, che cosa è successo? Buonasera, praticamente mio padre andava verso casa, è stato avvicinato da questa signora sulla cinquantina e gli ha chiesto se voleva baciarlo, se voleva far l'amore con lui. Poi si è avvicinata, ha detto che lui si è sentito sfiorare, ma non si è accorto di niente. Poi lui ha continuato la strada verso casa e questa donna è nata dalla parte opposta, aveva un cappellino. Poi mio padre ha anche una siccità parziale, quindi non ci vede neanche, ha una sorta di invalidità. Quindi c'è una persona di 75 anni, è proprio stata una vigliaccheria grossa. E poi si è accorto dopo 100 metri che non aveva più il portafoglio. Ecco, può darci anche una descrizione, magari so che aveva il cappellino, evidentemente anche un po' per nascondersi, ma non so se aveva un accento italiano piuttosto che straniera, se era mora, bionda, alta, bassa. Queste cose gliel'ha dette il suo papà? Eh no, ma ha visto solo che era un po' grossa, non tanto magra, con un cappellino, e ha detto sulla 50-60 anni, quindi non deve essere giovanissima, insomma. Bene, bene. Grazie, grazie di questa testimonianza che naturalmente è arrivata a tutti i nostri numerosissimi telespettatori. Dunque, fate attenzione perché di truffe in questi giorni d'estate se ne sentono, ma un po' tutto l'anno, se ne sentono tante, da quelle dello specchietto e questa sera anche appunto della sexy ladra.